Questa immagine colpisce, no? Perché questo è il Presidente del Consiglio di uno Stato europeo che accoglie così un ergastolano, un ergastolano per omicidio. Poi vedremo cosa ha fatto in base alla sentenza. L'ha colpita? Assolutamente sì, perché è chiaro che finché si parla di far scontare la pena a un italiano, farla scontare in Italia, niente da obiettare. Ma quando il Presidente del Consiglio va ad accogliere l'aeroporto uno che resta un ergastolano, condannato, che se gli va bene dovrà fare ancora due anni almeno, diciamo, in carcere, in coerenza potrebbe fargli rifare a Palazzo Chigi, se uno tira il filo. Invece che portarle fino a Verona, invece di andare fino a Verona può farlo a Palazzo Chigi. Ci sono dei messaggi molto sbagliati. Appena uscita questa foto di un parlamentare Fratelli d'Italia che è andato al carcere di Verona e ha fatto una foto proprio, eccola vede, insomma, felice. Tra l'altro non potevano entrare i cellulari là, quindi, diciamo, c'è un cambiamento della...